oh bene 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 buonasera a tutti da marcus eccoci qua allora la previsione del 90 lascia segno ha dato esito come doppio ambetto dove su milano e venezia come da previsione che è stata data da me qualche tempo fa ma non tanto più di tanto perché se vedete qua il 28 di maggio c'era l'uno cioè scusate c'era il 90 in posizione 1 prima posizione sulla ruota di venezia cosa succede dove è posto il 90 in automatico arriva quello che non si vede cioè la prima posizione quindi ogni numero sommato al 90 darà sempre lo stesso risultato quindi la prima posizione sommata al 90 darà sempre lo stesso valore quindi 1 quindi 1 e 10 in automatico va riflessa anche alla ruota diametrale che in questo caso è milano allora 90 in prima posizione 1 e 10 la volta dopo esce il 90 in quarta posizione proprio alla sua diametrale che è milano 4 ecco perché ho fatto la previsione 4 40 1 e 10 insieme 1 e 4 10 40 cosa è successo è successo che dal via del 30 maggio quindi abbiamo giocato 1 2 3 4 5 colpi quindi non è che abbiamo fatto 7 10 11 20 colpi abbiamo fatto 5 colpi quindi io avevo detto che dentro i 5 7 colpi pagava questa previsione non gli ho dato tanta importanza se sono sincero perché stiamo seguendo sia il 4 che il 24 che il 57 bellissimo che a cagliari però si è concretizzato una visita ma pensate che se c'era l'1 o il 4 c'era un terno nella un terno nella quartina comunque sia sono contento perché voi avete giocato avete portato avanti la previsione avete dato retta a quello che vi ho detto quindi 5 7 colpi ieri eravamo nei 5 colpi e avete portato e messo l'ambetto perché io l'ho ripetuto tante volte mettete anche l'ambetto mi raccomando e infatti avete vinto un doppio ambetto le vinti ci sono sono contento facciamo così che si vede un po' meglio ci sono quindi io ve le faccio vedere le altre sono sul cellulare quindi lo riesco ancora a scaricare ce ne parecchie quindi sono contento che avete vinto anche voi vedete che ci sono allora cosa succede in questo caso in questo caso adesso questa previsione si potrebbe ancora continuare però noi andiamo avanti col 4 24 e 57 su cagliari allora cancelliamo qui un attimino e vediamo cosa succede allora l'11 cioè ieri c'è il 57 in quinta a roma poi abbiamo detto che c'era un altro 57 abbiamo un'altra condizione quindi che da il 57 su cagliari eccolo qua quindi stessa ruota stessa ruota il 28 di maggio ha dato il 57 ieri ha dato il 57 sulla stessa ruota ma l'ambata contata prevede che tu devi ripartire dalla prima posizione e contare 57 volte e vedere dove arriva lo rifacciamo per i nuovi lo rifacciamo per rispolverarvi un po' quello che è questo sistema da l'ambata contata quindi 1, 2, 3, 4, 5 quindi anche se è qua o se è qui quindi di qua sono sempre 5 quindi 5, 10, 15 andiamo per ordine 20, 25 30, 35 40, 45 50 55 56 57 allora questo sistema prevede l'ambata nelle due ruote gemelle quindi se a Torino arriva a 57 in seconda in automatico si rispecchia poi solo a Cagliari che è la gemella quindi 57 o 75 a Cagliari e Torino seconda posizione a Torino seconda posizione a Cagliari 57 a Cagliari 57 a Torino non è detto che arriva anche il 75 però a noi andiamo a vedere col grafico lineare grazie al programma di Roberto Borrelli combinazione adesso ieri ho fatto gli screenshot non so dove l'ho messi c'è stata una strage di esiti con il programma di Roberto sono andato a vedere e a verificare tutte le ruote ragazzi c'era una strage ieri sono usciti in tutte le salse però noi per chi segue i miei sistemi quindi noi stiamo seguendo solo 2-3 previsioni non di più non possiamo fare 50.000 previsioni allora mi hanno detto che a Bari intanto ne siamo con Bari andiamo a una rispolverata attenzione guardate Bari ah forse era il 24 di Genova aspettate un attimo no il 42 di Genova se non sbaglio guardate ve lo devo far vedere perché è pazzesco allora 4 di Bari io continuo a dire questo 4 di Bari perché dovrebbe uscire prima e seconda le più forti poi c'è la quinta con il nuovo metodo la seconda ora mi avete chiesto Marco ma io 3 posizioni non riesco a giocare allora potete fare un'altra cosa giocare qui solo la seconda posizione è l'estrato semplice quindi visto che sia il nuovo che il vecchio dalla seconda posizione è forte giocate la seconda posizione è come l'estrato semplice ma che vada sono due giocate in meno questa e questa però qua valutate voi io vi dico l'estrato semplice mettetelo e giocate almeno la seconda la più forte poi il 24 il 24 guardate dov'è sta prendendo la lippa però non so vediamo 24 guardate qua 24 col nuovo si ha in terza fortissima e in quarta comunque anche qua se volete 24 in terza secca è come è stato semplice e poi l'ambo qua secco 24 e 4 4 e 24 però il pezzo forte secondo me è Cagliari perché adesso vi faccio vedere cosa succede adesso 57 a Cagliari eccolo qua 57 a Cagliari ha 43 43 estrazioni quindi è frequente è frequente sto 57 per curiosità vediamo 75 no 75 non è come il 57 75 ne da 32 e il 57 vi ripeto ne da 43 che ce n'è ben di più quindi posizioni del 57 combinazione combinazione ambatta contata dalla seconda posizione guardate qua e per quello che vi dico occhio perché questo 57 su Cagliari arriva bello bello e poi c'è la terza posizione anche qui potete fare 57 subito in seconda e come è stato semplice perché vi da fortemente la seconda sia dal programma di Morelli con questo meraviglioso sistema di algoritmo e poi ambatta contata quindi è stato semplice ma attenzione seconda e terza posizione io mi farei anche la terza posizione quindi seconda e terza scusate seconda e terza ok eccoci qua poi ieri è uscito il 24 di Genova allora Genova il 24 guardate che bello aspettate no il 42 di Genova ho ciccato guardate allora ieri adesso segno a zero perché io ho aggiornato l'estrazione adesso porto indietro un'estrazione rifaccio il 42 guardate che rollo allora guardate che situazione che c'era cioè è una cosa incredibile rifaccio meglio ecco qua vabbè adesso non si vede ma vi assicuro che era 8-9 qua quindi guardate un po' che situazione che linea cosa esce su Genova ieri 42 42 quindi ragazzi beh quello vi dico adesso siamo a Cagliari Cagliari guardate qui Cagliari quindi 41 presenze Cagliari mi sembra che c'è una prendiamo un attimino c'è una 41 Cagliari sì 57 di Cagliari c'è una 41 presenze quindi ragazzi siamo lì deve mollare su 57 Cagliari quindi andiamo per le vie buone allora 57 si rafforza perché c'era già il 57 28 di maggio sul finire di maggio il 57 di nuovo della stessa ruota l'11 ieri cosa vi voglio dire 75 57 Cagliari Torino però il 57 è fortissimo su Cagliari ora andiamo a vedere un attimino ci sono delle ambate ma io non posso farvi vedere tutte le ambate perché non posso perché per rispetto di chi ha il programma giustamente non posso farvi vedere tutto però vediamo un attimino col grafico lineare la sua ruota contraria che è Torino se il 57 no vedete che ha meno presenze vedete vediamo il 75 per curiosità è il 75 ha meno presenze ciao ragazzi allora ve lo dico chiaro e tondo allora il 57 deve arrivare a Cagliari punto chiuso e basta punto chiuso e basta quindi siamo a scarso il 75 Torino il vertibile il 57 è scarso quindi abbiamo solo 17 presenze guardate 17 presenze non sono veramente poche quindi sia il 57 che il 75 a Torino non marcia come il 57 di Cagliari quindi si propone a Torino ma attenzione è il 57 che può arrivare a Cagliari quindi bello secco in seconda posizione e in terza vedrete che il 57 esce poi la previsione che vi ho dato ieri col 12 78 e il 12 87 la continuate se volete fare una cosa potete farla perché si possono abbinare benissimo 12 78 87 potete fare anche il terno secco ma anche sulla nazionale quindi Cagliari Firenze Genova e nazionale 12 78 87 poi se volete fare gli ami separati è un conto ma il 12 78 87 è un terno da non sottovalutare e anche va giocato su nazionale ok come ruota di scorta tutto lì le previsioni le sapete le posizioni neanche andiamo avanti così quindi non ci sono altri commenti da aggiungere ok sto 57 a Cagliari lo vedo bene il 4 lo vedo bene forse un po' meno 24 ma comunque secco in terza è come è stato semplice il 4 a Bari secco in seconda secco è come è stato semplice e poi l'ambo secco 4 24 il 57 in seconda a Cagliari secco secco in seconda è come è stato semplice risparmiando magari qualche soldo nelle altre posizioni ma così almeno abbiamo una situazione di gioco completa poi c'è il 12 78 il 12 87 su Cagliari di Firenze Genova è nazionale non sono dimenticato di Villa nazionale però se volete fare magari tutto in uno fare 12 78 87 su tutte e un 12 78 87 su nazionale non sarebbe male ok tutto lì questi sono calcoli ottimali ecco il 12 vedrete che il 12 verrà con il 78 o con il 87 sono incastri matematici vedremo se questo incastro matematico matematico riuscirà ad andare a segno su queste ruote perché in particolare va a segno su queste ruote il calcolo che faccio adesso questo non vi posso svelare è un segreto questo per adesso rimane sotto osservazione per vedere bene l'andamento comunque sono andato indietro di 3 5 7 8 anni quindi funziona sempre funzionato attenzione allora 57 a Cagliari attenzione al 4 e al 24 e poi al 12 78 87 mi raccomando un abbraccio sempre da vostro amico marcus che non vi abbandona mai ciao ciao